Oggi è anche una giornata nera per il trasporto pubblico locale con le organizzazioni sindacali, lavoratori che incrociano le braccia, tanti disagi naturalmente per gli utenti. Sì, dispiace perché secondo me sono scioperi evitabili, nel senso si deve avere più metodo, più pazienza, più tenacia e più voglia di lavorare tutti per una soluzione. Secondo me nell'azienda bisogna dare più importanza a queste tensioni e nello stesso tempo tutti devono avere la consapevolezza che con molta probabilità da qui a qualche settimana si uscirà definitivamente dal tunnel con l'udienza di fine ottobre. È una partita che ci stiamo giocando come sempre da soli e questa è la grande amarezza perché le ricadute sono tutte su di noi, intendo noi come città, come napoletani, anche come amministrazione perché gli enti robusti da un punto di vista finanziario e normativo che potrebbero aiutarci e invece si stanno non solo disinteressando ma ci stanno anche ostacolando sono gli apparati centrali e quelli regionali. Questo vale per ANM ma vorrei aggiungere anche il CTP dove se è possibile la situazione è ancora più grave perché mentre ANM stiamo uscendo dal baratro, CTP se non si ha la testa sul collo, se non si rimane uniti e se non si assumono posizioni che sembrano quasi impossibili il CTP rischia di fare la fine che rischiava di fare ANM. Quindi ci stiamo lavorando in questi giorni per evitare il baratro a quell'azienda come al solito ce lo stiamo caricando sempre le stesse persone chi vi parla è i nostri più stretti collaboratori, i lavoratori lo devono capire ovviamente c'è il massimo rispetto per le tensioni, per le preoccupazioni però attenzione perché gli unici che possono trovare una soluzione che sembra impossibile siamo noi e io poi sono molto indignato perché sinceramente c'è chi festeggia in queste ore pensando che il paese stia uscendo dal baratro ma sinceramente dopo sette anni e mezzo di governo io quello che vedo è che veramente è tutto un insieme, un guazzabuglio di norme e vincoli che stanno ormai rendendo insopportabile in alcuni casi la vita quotidiana delle città, dei territori questo vale per Napoli ma anche per altre zone, per i diritti, per gli abitanti e per chi amministra che vorrebbe attuare il programma ed è nell'impossibilità di fare salti di qualità in avanti perché ormai abbiamo raschiato il barile abbiamo cercato di fare tutto quello che si poteva fare più di questo non si può fare